Sì, voi state facendo un lavoro assolutamente straordinario perché è un lavoro di ricostruzione di un tessuto sociale attraverso la cultura che credo è lo strumento più formidabile per sanare certe ferite del territorio e della nostra società che altri mezzi, altri strumenti fanno molto più fatica a rimediare. È un lavoro meritevole che va sostenuto, che va appoggiato ed è questa anche una delle ragioni per cui non vado da nessuna parte. In realtà do accompagnare i film di Venezia, vengo soltanto a Napoli e lo faccio con grande piacere.